Dalla sanità alle infrastrutture, passando per i luoghi culturali e la geografia giudiziaria, chiede risposte precise alla Regione, capogruppo di Forza Italia, il Consiglio Comunale, Elisabetta Bianchi. Le dichiarazioni del Presidente D'Alfonso siano finalmente orientate con concretezza e coraggio alla crescita della città attraverso il potenziamento dei servizi ospedalieri, del sistema infrastrutturale, dei trasporti pubblici, del ripristino, del sistema culturale, ad oggi mortificato dalla ripartizione dei fondi regionali, interviene la Bianchi. Secondo il capogruppo di Forza Italia è necessario che venga affermato il principio che i tracciati delle opere impattanti come quelle del metanodotto e centrali di compressione SNAM siano realizzate nel pieno rispetto delle caratteristiche e vocazioni ambientali. È necessario che la Regione si preoccupi di affrontare con determinazione il tema della geografia giudiziaria che è rimasto risolto. È necessario che la sede dell'Agenzia di Promozione Culturale possa presto riaprire battenti ai cittadini ed è importante conoscere a più presto su questo la posizione della Regione ad oggi rimasta ignota. Richiamiamo il Presidente D'Alfonso all'impegno preso di riaprire la discussione sull'ospedale che deve ritrovare la piena dignità assistenziale, conclude la Consigliera. Queste sono le esigenze della città le quali nella bazia celestiniana pretendiamo di trovare risposte.